Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. Continuano le infiltrazioni umide dai quadranti occidentali nel Mediterraneo all'interno della vasta area anticiclonica che comprende oltre alla nostra penisola anche l'Europa centro-occidentale e questo favorisce una maggior copertura nuvolosa associata anche a deboli precipitazioni che oggi si sono presentati tra Ligure e Toscana e che domani potrebbero estendersi anche alle restanti regioni centrali tirreniche. Continuerà invece ad essere bel tempo piuttosto soleggiato in tutti i settori orientali della penisola. In Abruzzo vivremo una domenica fotocopia di quanto vissuto oggi con il cielo piuttosto soleggiato nei settori orientali e della nuvolosità irregolare che si presenterà durante la giornata in quelli occidentali. La ventilazione continuerà ad essere debole di direzione variabile ed il mare calmo ovunque. Le temperature minime di questa notte comprese tra meno 1 e 7 gradi e le massime di domani stazionarie con valori compresi tra 10 e 15 gradi. Per il meteo è tutto, l'appuntamento con le previsioni meteo è per lunedì mattina.